Assolutamente sì, e anzi ringraziamo i grandi voi che hanno fatto la storia di questa società che oggi non saremo qui e sicuramente rappresenta un punto di credito per noi il nostro maestro, come Donati l'ha definito, che ci guarda dall'alto e costituisce un esempio per tutti noi, soprattutto uno stimolo per portare e non deludere mai i tifosi. Grazie, grazie.